E dalla sagra della castagna di Pesco Rocchiano parliamo di un altro prodotto di eccellenza del territorio, le lenticchie di Rascino. E ne parliamo con Lorenzo Camilli, il presidente della cooperativa Lenticchia di Rascino. Allora la prima domanda riguarda ovviamente la qualità, l'eccellenza di questo prodotto. La lenticchia è indubbiamente un prodotto buono, ha avuto un riconoscimento ormai a livello nazionale, abbiamo ottenuto il presidio Slow Food, lavoriamo insieme alla comunità di Slow Beams e quindi ci stiamo confrontando con i migliori legumi d'Italia e non solo. E sostanzialmente l'appartenenza a questa comunità ci consente di relazionarci con i produttori che hanno le nostre stesse problematiche, quindi parliamo di produzioni di nicchia molto ridotte e comunque di estrema qualità. Noi quest'anno purtroppo abbiamo avuto un problema enorme con la siccità e sostanzialmente abbiamo raccolto a malapena la quantità che ci servirà per seminare, per cui quest'anno la lenticchia di Rascino non sarà sui mercati, ce ne sono pochissima. In tutto ne avremo circa 10-15 quintali da commercializzare e quindi con il marchio lenticchia di Rascino sarà solo questa quantità che girerà. E mi piace sottolineare la serietà di questa splendida azienda, qui niente lenticchia finta, gira solo quella vera. Sì, assolutamente. La lenticchia di Rascino è distinguibile dall'etichetta che è questa che vediamo qui nel manifesto che è a fianco e che testimonia che è la lenticchia effettivamente prodotta e coltivata in modo assolutamente biologico nella piana di Rascino. Se dovesse chiedere, oggi ci sono tante autorità qui, dovesse fare una richiesta, che cosa le verrebbe da dire? Noi lo abbiamo chiesto direttamente all'assessore Refrigeri e al presidente Zingaretti. Noi abbiamo bisogno di avere una struttura nella quale fare la lavorazione della lenticchia perché siamo costretti a portarla a pulire fuori dal territorio con enormi difficoltà a spese e anche con il fatto che portando la lenticchia a pulire su macchinari che puliscono anche altri tipi di lenticchie comunque ne abbiamo una penalizzazione dal punto di vista della conservazione e dell'individuazione del prodotto in se stesso. messaggio forte e chiaro per garantire fino in fondo la quantità della lenticchia di Rascino. Grazie a voi.